Come ti sei fatto quella cicatrice? Non so se tu sia pronto per quella storia. Sì, sono pronto. Oh sì, raccontagliela a papà. Sta a sentire che forza. C'erano 38 gradi all'ombra. Ho camminato per cinque giorni senza acqua. Poi l'ho visto. Un bel laghetto. Mi sono abbassato per bere quando quei coccodrilli si sono scagliati fuori dall'acqua. Uno mi ha morso alla faccia. Di sicuro li avrei fatto da pasto. Se non fosse stato che non ero pronto a morire quel giorno. L'ho tranciato in due con un morso. Ho sversato un altro con la coda. E l'ultimo, beh, ho annegato quel coccodrillo nel mio stesso sangue. Wow. Sì. Guarda, guarda. Mi fa venire la pelle d'oca ogni volta. Adoro quella storia.